bene amici del sanotech world vi sto facendo un video per farvi vedere la bontà di questa foscam r2 l'ip camera che mi è arrivata intanto ringrazio l'ufficio stampa di foscam che me l'ha mandata in prova una fotocamera davvero eccellente con anche il servizio di cloud quindi non dovete stare lì ad aprire porte diventare matti questa è l'app vi sto registrando da questa app qua c'è il condottore dei minuti secondi quant'altro qua c'è il bitrate e questa è la qualità video della foscam r2 una qualità davvero davvero eccellente ero trattati anche di altoparlante microfono quindi anche da remoto potete interagire tranquillamente può fare la disattivazione attivazione del motion detect quindi allora quando sente un movimento che manda un video messaggio e poi anche rilevatore di suoni insomma un prodotto davvero davvero eccezionale ragazzi mi metto anche qui perché vi devo far vedere una cosa il telefono sono non mi sentite guardate cosa mi è arrivato da cuna per ragazzi sfrutto questo questo video per farvi vedere anche la bontà della foscam guardate mi è arrivato un nas da 888 euro di listino guardate intanto ringrazio un app per avermelo mandato in prova intanto vi faccio vedere appunto la bontà di questa di questa foscam r2 che dite ragazzi ho tantissimi prodotti da recensire in questo periodo che muoio guardate ancora cosa da recensire un nas della western digital guardate bellissimo e poi economico poi ho un amazon file tv da recensire ancora uno switch easy smart dell'atp link guardate potete fare addirittura le bulan con questo si può gestire uno switch gestito a cinque porte molto bello con case in alluminio e questa è la amazon file tv sono andato un po in ritardo in realtà l'ho presa appena uscita non ho mai avuto tempo di fare una recensione ragazzi insomma tantissimi prodotti da recensire quindi state sintonizzati sui canali delle salute world perché questo mese vi stupirò con tantissimi video vi ringrazio ringrazio ancora foscam per avermi mandato in prova questo prodotto vi ho fatto vedere la recensione ci ho fatto vedere la qualità video di questa foscam adesso vi faccio vedere attivando il microfono e andando la in fondo se questo foscam riesce a percepire l'audio ok insomma ragazzi un prodotto davvero molto interessante avete potuto vedere come come riprende veramente una qualità video veramente eccellente ho il mio oneplus 2 intanto ve lo metto qui così potete ammirare la bontà della videocamera di questa foscam un prodotto davvero valido ripeto rimanete sintonizzati sul canale ciao a tutti